Allora, una faccia da medaglia che ci preoccupa l'incidenza esponenziale e l'altra che invece ci tranquillizza, poche rianimazioni occupate, una letalità relativamente bassa, 40 contro i 700 persone, ricoveri 5.000 contro i 25.000 e soprattutto molti asintomatici. Ecco, venendo a si muore per il coronavirus, da coronavirus che cos'è? Allora, diciamo una cosa, che è giusto attribuire ai coronavirus quello che è la presenza di coronavirus, che uno muoia ha il coronavirus, perché questo lo si fa anche per l'influenza stagionale. Allora, diciamo che in Italia ci sono dai 10 ai 20 milioni di casi all'anno di influenza, 10.000 morti all'anno, ricordiamoci, sono 35.000 finora 36 per Covid-19, 10.000 per l'influenza all'anno. Di questi 10.000 forse di influenza vera che muoiono saranno 3-400 di polmonite virale da influenza, il resto sono complicanze batteriche, comorbosità, diabete, iportensione, cuore. Ecco però noi li attribuiamo all'influenza, quindi è giusto attribuirli al SARS-CoV-2, anche questi 36.000 morti, questi eventi letali. Dovremmo però dire che molti di questi eventi letali avvengono, come dicevo, il 90% della mortalità era negli ottantenni e su, soggetti che avevano altre patologie, quindi respiratorie, cardiovascolari, metaboliche. quindi anche una diatesi, cioè una costituzione corporea grassa, cioè tutto quello che produce infiammazione nel nostro corpo. Sappiamo che più vecchi diventiamo, abbiamo arteriosclerosi, le nostre arterie non sono più pulite, dove si forma una placca c'è un'infiammazione e lì il virus attechisce e replica meglio. Perché i bambini non si ammalano, i giovani? Perché sono belli sani e quindi non hanno questi fattori favorenti. Allora, molti dei morti per Covid-19 erano ricoverati perché avevano un aneurisma, perché avevano una trombosi di altra natura non collegata al Covid, perché avevano un infarto, perché avevano un tumore terminale, però siccome in questa fase ovviamente anche per esigenze di pandemia e di controllo dell'infezione ospedaliere e della diffusione si fa il tampone a tutti, quindi ovviamente anche se uno muore di altra causa, quindi molte di queste mortalità non sono primariamente dovute al Covid-19. Però a livello statistico noi dovremmo far come abbiamo fatto con l'influenza e quindi credo che quando avremo dati ISTAT sulla mortalità globale in Italia, questi dati li sapremo meglio aggiustare. Credo di averle risposto. Mi ha risposto perfettamente. Tornando all'altra parte della domanda… Io le faccio tante domande perché mi incuriosi… Io spero di non perdere il filo perché poi si dicono che non mi ha risposto questo o quell'altro. Lo so perché poi perdo il filo e la domanda che non era preparata… Lei, ecco, era questa confusione mediatica, questa esagerazione, questa frenesia, ecco, io direi questa perdita della ragione. Siamo in una stagione, un autunno della ragione, vorrei dirlo. Ecco, la descrizione come Camus o il Manzoni della peste. Questa non è la peste. Ecco, ricordiamoci che è vero che si può morire, che la morte è un evento fatale, inarrestabile, collegato con la vita stessa dell'uomo. Quindi ricordiamo che l'influenza ci può dare una febbre, anche questo, soltanto, e guarda a casa una maggior parte dei casi, anche niente, ci può dare la polmonite e anche di influenza, come dicevo, si può morire. Ma perché non abbiamo pensato al sistema di trasporto? Questo non è niente. Oggi stiamo dicendo le misure… Ma perché non abbiamo fatto quei tamponi in questo tempo, come sta dicendo lei, anche se non sicuro il 100%… Quella è la burocrazia italiana. Ma perché non abbiamo… ha capito? Quindi abbiamo buttato via dei mesi, professore. Dovremmo pensare ai sistemi di trasporti, lo sapevamo. Questi sono gli assembramenti che diffondono. Quindi di cosa si è preoccupata la politica? Di procrastinare uno stato di emergenza.